Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, abbiamo molto da imparare dai nostri fratelli brasiliani e saranno lezioni utili per tornare ad essere liberi e godere pienamente di tutti i nostri diritti costituzionali. Questi i fatti su cui riflettere. I rappresentanti dei governi di 24 stati e del distretto federale del Brasile hanno deciso di chiedere un'udienza al presidente Jair Bolsonaro, ufficialmente per tentare di allentare la tensione tra il governo e la Corte Suprema. La riunione segue di tre giorni una richiesta con cui il capo dello Stato intende far allontanare dall'incarico Alexandre de Moraes, uno dei magistrati della Corte Suprema, accusato da Bolsonaro di aver superato le prerogative costituzionali. Ora fatevi quattro risate. Bolsonaro è indagato per diffusione di notizie false, sapete quelle bollate come complottismo, che poi in realtà si rivelano vere, presunta violazione del segreto istruttorio e accuse non supportate da prove. Su questo ci torneremo nel corso del video. Ma cosa temono i governatori che osteggiano Bolsonaro? La stampa brasiliana afferma che molti componenti delle polizie militari degli stati si stanno preparando per partecipare armati di tutto punto a una manifestazione indetta in favore del presidente Bolsonaro prevista per il prossimo 7 settembre, festa dell'indipendenza. Sì, la polizia in uniforme e armata manifesterà al fianco del popolo per difendere la Costituzione, i diritti umani e la libertà. Anche su questo punto torneremo più avanti. Cosa pensate? Sarebbe bello che questo avvenisse anche in Italia? Beh, per i governatori brasiliani, accoliti delle diaboliche elite, ovviamente no. Hanno certamente molto da temere. In particolare il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, che ha allertato i colleghi per una radicalizzazione dei poliziotti, pronti a scendere in piazza armati e ha allontanato Alexander Lacerda, un fedele di Bolsonaro a capo del settimo comando della polizia interna. Il motivo? Aveva pubblicato sui social media che la libertà non si conquista, si prende! E ha promesso di guidare i raduni del 7 settembre a San Paolo e Brasilia a sostegno del presidente contro de Moraes. Altro punto su cui riflettere. Cosa pensate della frase di un capo della polizia? La libertà non si conquista, si prende! Perché Bolsonaro, la popolazione e le forze di polizia temono che la democrazia sia in pericolo? Una delle principali ragioni è rappresentata dai probabili brogli del sistema di voto elettronico. Ipotesi tutt'altro che remota, visto quanto accaduto negli Stati Uniti. Ora, torniamo ad un altro fatto che Bolsonaro ritiene incostituzionale. Dicevamo, de Moraes sta indagando il presidente per diffusione di notizie false. Immaginate se ciò venisse in Italia. Qui sì che i governanti diffondono fake news. Ad ogni modo, nel corso della diretta di due ore, il capo dello Stato aveva mostrato spezzoni di video già circolanti sulla rete e considerati fake news. Mamma mia che reato. Mostrare dei video che i censori a libro paga della cupola satanica considerano fake news. Per sostenere le sue tesi, il presidente aveva deciso di utilizzare vari documenti. Nella lista era finita anche un'inchiesta della Polizia Federale relativa a un attacco cibernetico al sistema interno del Tribunale elettorale avvenuto nel 2018. Un caso che Bolsonaro ha presentato come prova della vulnerabilità del sistema. Ad ogni modo, non solo i media in Brasile e nel mondo intero sono corrotti, ma anche buona parte della magistratura. Questa è la ragione per cui ci ritroviamo a dover lottare per la libertà e i diritti costituzionali. Altro fatto curioso, ultimo in ordine di tempo, l'inchiesta aperta dalla Polizia Federale sulla presunta violazione del segreto istruttorio, che Bolsonaro avrebbe compiuto rivelando in televisione proprio i dettagli delle immagini compiute sul presunto attacco informatico del 2018. Il popolo non lo deve sapere. Ma vi rendete conto? Qui ci stanno avvelenando e nessuno alza un dito, ma chi difende la libertà e la Costituzione viene indagato per un non nulla. Ricordiamo che Bolsonaro ha chiesto in Parlamento di approvare una proposta di modifica costituzionale per reintrodurre la documentazione cartacea nei processi elettorali. La mozione per introdurre le ricevute di voto cartacee è fallita solo perché doveva superare una soglia dei tre quinti. La maggioranza dei legislatori, 229, ha votato a favore della richiesta del Presidente, mentre 218 hanno votato contro. Evidentemente questi che hanno votato contro non vogliono un voto sicuro. Sapete come si dice? Verba volant, scripta manent. Una riforma del meccanismo che secondo Bolsonaro avrebbe inficiato le presidenziali del 2014 e del 2018 ed è proprio per garantire la genuinità del voto elettorale, visti i precedenti, che il Capo dello Stato aveva minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022 nel caso in cui si fosse mantenuto il sistema del voto integrale elettronico. Se si è in buona fede e non si vogliono Brogli, perché negare la prova cartacea? Attenzione, perché è cosa che riguarderà anche noi in Italia e in molte altre parti del mondo. Torniamo alle ridicole accuse di fake news. Nell'istruire le sue indagini sulle notizie false e dando del bugiardo a Bolsonaro, De Moraes avrebbe superato i limiti a lui imposti dalla Costituzione e del rispetto istituzionale. Ed è per questo motivo che Bolsonaro ha chiesto l'impeachment per la toga rossa, accusata anche di accentrare su di sé l'apertura dell'inchiesta, la raccolta delle prove e il giudizio. Quest'azione è fuori dai limiti della Costituzione e l'unica risposta va cercata fuori dalla Costituzione, aveva spiegato Bolsonaro dicendosi pronto a usare le stesse armi della magistratura. E qui si apre un altro spunto di riflessione. Quando organi dello Stato giocano sporco, violando la Costituzione a danno dei cittadini, è lecito o addirittura doveroso usare le loro stesse armi, come afferma Bolsonaro? Lascio a voi ogni considerazione, non vorrei andare al di là del mio ruolo. Bolsonaro ha poi precisato, gioco entro le quattro linee della Costituzione e gioco, se necessario, con le pistole dall'altra parte. Wow! Difendere la Costituzione e la libertà del popolo con le armi in pugno e con il sostegno delle forze di polizia ed esercito. In Brasile si apprestano a farlo, memori di quanto accaduto negli ultimi mesi negli Stati Uniti. Ascoltate il parere di Thomas Favaro, direttore per il Brasile di Control Risk. Bolsonaro sta seguendo le orme di Donald Trump, assicurandosi di non seguire il destino di Trump. Mentre alcune delle critiche di Bolsonaro al sistema di voto precedono la sconfitta elettorale di Trump del 2020, è chiaro che il presidente brasiliano si sente rafforzato da quanto accaduto negli Stati Uniti e spera che un'offensiva prolungata possa consentirgli di mantenere il potere anche in caso di una sconfitta elettorale. Ricordiamo che una decina di giorni fa si è tenuta una parata militare nel centro di Brasilia che è stata considerata una dimostrazione di forza, poiché i capi di tutte e tre le forze armate sono stati visti con il presidente quando il congresso doveva votare gli emendamenti al sistema di voto elettronico per le elezioni del 2022. Dicevamo che dei 27 governatori del Brasile, 25 hanno firmato il verbale esprimendo preoccupazione per l'alto livello di sostegno al presidente fra i circa 500.000 poliziotti militari del paese. Alla polizia militare in servizio è vietato fare manifestazioni politiche, ma molti dovrebbero presentarsi alle marce del 7 settembre a sostegno di Bolsonaro. C'è una crescente preoccupazione in Brasile da parte degli accoliti della cupola satanica su quale ruolo potrebbero svolgere i militari e la polizia di Stato se Bolsonaro dovesse non accettare il risultato delle elezioni a motivo dei brogni. Passiamo ora a vedere perché diciamo che Bolsonaro difende la libertà dei brasiliani. In un'intervista a Radio Farol di Alagoas, il presidente ha affermato che il governo è sul punto di suggerire che l'uso delle mascherine diventi facoltativo, così come devono rimanere facoltative le vaccinazioni. Chi vuole le fa e chi non vuole non le fa. Ah, questo dittatore che si batte per la libertà di scelta del suo popolo, mica come i nostri democratici governanti che impongono l'inoculazione anche a chi ne farebbe volentieri a meno. Vergogna, questa è una dittatura. Non battersi per la libertà di scelta, se portare una maschera o meno o se accettare un determinato trattamento oppure no. Riflettiamo anche su questo e che riflettano sia le forze dell'ordine che le forze armate. In Brasile si schierano con il popolo a difesa dei diritti costituzionali di tutti. In Italia speriamo di avere veri uomini e non figlioli di un dio minore. E non è finita qui. Il complottista Bolsonaro ha dichiarato lunedì 23 al suo ritorno al Palazzo d'Alvorada. Ho solo una cosa da dire. Sto cospirando. Sì, molto, affinché tutti rispettano la nostra Costituzione. Ok? Questa è la mia cospirazione. Rispettare la Costituzione. Tutto qui. Queste sono le cospirazioni che vorremmo vedere. Mica quelle contro i popoli e i loro diritti costituzionali. Vero Dragone? Il Presidente della Repubblica ha ribadito. Per noi la vaccinazione è per chi si offre volontario. Da parte nostra non costringeremo nessuno a farsi vaccinare. E chissà perché, se lasci libera una popolazione di scegliere, mainstream e governatori permettendo, senza esercitare alcun ricatto, si ottengono i seguenti risultati. Brasile, dati ufficiali, solo il 26,2% è stato immunizzato contro la malattia, pari a 55 milioni di persone. E i vaccini ci sono. Per non parlare di economia. Bolsonaro ha ritenuto i governatori responsabili dell'aumento della disoccupazione. Con le parole, dal marzo dello scorso anno, praticamente tutti i governatori del Brasile hanno lanciato la campagna Resta a casa! E l'economia vedremo dopo. E poi è arrivato quello che considero un abuso, ovvero misure di lockdown, reclusione, coprifuoco, ha concluso Bolsonaro. E a questo punto cosa dobbiamo pensare? Noi abbiamo il dragone, loro Bolsonaro. Noi abbiamo il generale vaccinatore, loro hanno l'esercito e la polizia schierati armi in pugno a difesa dei diritti costituzionali della popolazione. Forze dell'ordine, forze armate. Dov'è la dittatura? In Brasile o in Italia? Dove va difesa la democrazia prima che sia troppo tardi? Prima di concludere, volevo ringraziare la Chiani Life che in collaborazione con la H-Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto e del dottor Willem Reich, l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua, cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario, creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua. La Chiani Life, quando ha saputo che YouTube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati, ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani. Carissimi amici del canale YouTube dentro la notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 110.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Purtroppo però le donazioni sono molto poche, mettendo a rischio il nostro lavoro. È particolarmente importante quindi in questo momento il vostro sostegno. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite l'email in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi qui e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby!